Il pannello di gestione di Aruba Drive prevede una sezione dedicata alla gestione di un calendario, uno strumento utile a controllare le riunioni programmate dal tuo team, con la possibilità di condividere la programmazione, collaborare su calendari del team e molto altro. Per iniziare dal menu in alto clicca su calendario. Da questa schermata hai la possibilità di passare a una certa data nel tuo calendario per rivedere rapidamente un evento o un appuntamento passato o futuro. Lo strumento calendario ti consente di vedere facilmente le attività di quel giorno, in modo da non dover perdere tempo nella ricerca. Clicca su oggi per tornare alla data odierna. Puoi modificare la visualizzazione del calendario e scegliere una modalità tra giorno, settimana e mese. Puoi creare un nuovo evento. Editare i calendari già creati in precedenza. Creare un nuovo calendario. Aggiungere un nuovo appuntamento. E puoi gestire le impostazioni del calendario. Ti basta cliccare sulla voce calendar settings, presente nel menu laterale a sinistra, e abilitare le opzioni più adatte alle tue esigenze. Infine puoi anche importare un calendario. Clicca su importa calendario. Seleziona dal tuo dispositivo il calendario da importare con estensione .ics. In questo modo gli eventi, gli appuntamenti e tutte le ricorrenze presenti nel calendario importato saranno disponibili nel calendario di Aruba Drive. Dal menu a tendine indicato seleziona un calendario in cui importare e clicca nuovamente su import a calendario per ultimare l'operazione.